La sorella di Romina, non è mai stata una persona sensibile Nel caso Romina Power Albano Carrisi interviene anche la sorella della cantante, Tarin Power. E a sorpresa la sorella stupisce tutti e va contro Romina che a suo dire non ha riflettuto bene prima di agitare le acque nella coppia lecciso Albano. Dovrebbe capire che le sue dichiarazioni le dono alla coppia, ma soprattutto ai figli che Loredana e Albano hanno. Quando Romina stuzzica lo fa per esigenze di spettacolo. Poi in un'intervista di più rivela qualche retroscena sul rapporto con Romina, non è mai stata una persona molto sensibile, in passato non lo è stata nemmeno con me. A questo punto esorta però Albano ad assumersi le sue responsabilità esortandolo ad essere uomo. Ma Tarin non crede ad un riavvicinamento tra i due, se ci fosse qualcosa tra di loro, ci sarebbe anche tra uno spettacolo e laltro. Infatti la sorella della cantante sottolinea l'assenza di Albano che non è mai andato negli Stati Uniti a trovare Romina. Insomma a quanto pare tra i due non è ancora del tutto sbocciata la riunione sentimentale. Per il momento resta solo quella sul palco. Ciao! Ciao! Ciao!